bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Xemax 11 ragazzi che nel negozio oggetti stanno uscendo una bordata di skin che sono alquanto meravigliose e mi raccomando che per supportarmi in maniera totalmente gratuita inserite il supporto a un creatore XEmanuele97 detto ciò ragazzi parliamo dell'evento di oggi allora ragazzi vi ricordo che oggi ci sarà l'evento del buon Galactus fra 7 ore 36 minuti e 9 secondi ovvero alle 10 italiane detto ciò ragazzi per evitare di creare lunghissime code vi ricordo di entrare su Fortnite per le 20 e 45 la modalità dell'evento sarà il divoratore di mondi che sarà già attivo alle 21 e 30 vi consiglio di entrare sin da subito o a 25 sbarra 20 minuti dall'inizio dell'evento per evitare problemi poi mi raccomando ragazzi non preoccupatevi dell'obiettivo delle kill perché a termine partita esso sarà nascosto poi stessa cosa varrà per la tempesta che a due minuti dall'evento verrà rimossa e soprattutto vi ricordo di creare delle lobby piccole per non creare problemi alle singole persone detto ciò ragazzi ci vediamo come sempre in live io sarò già in live per le 9 e mi raccomando lasciate un bel like cozzo e iscrivetevi al canale ciao ragazzi ci vediamo stasera